Il turismo in Toscana nel 2018 mette le ali con 2 milioni di presenze in più attese dagli operatori nelle città d'arte, ma soprattutto nelle località di mare e di montagna, dove, secondo i dati dell'indagine svolta da SLA Turismo e Territorio per conto di Toscana Promozione Turistica presentati a Firenze, la crescita attesa per il 2018 è del più 4% e l'aumento del fatturato del 3-4%. Dobbiamo, se possibile, condizionare i flussi, governarli, comprendere i fenomeni e valorizzare la vera scommessa di questa regione, raccontare la Toscana per intero e mitigare gli effetti potenzialmente di affaticamento sulle grandi polarità delle città d'arte. Il turismo in Toscana è sempre più digitale, con oltre il 50% del fatturato che arriva dalle vendite online, mentre tra gli operatori turistici vanno forti i social network, con un più 2,5% sul 2017 e neanche il maltempo di inizio primavera ha abbattuto gli arrivi. La cosa positiva è che assieme ai numeri che crescono, crescono anche i fatturati, cioè chiedendo agli operatori qual è la loro opinione da questo punto di vista, c'è una consolidata crescita di fatturati. La crescita di fatturati ragionevolmente noi la colleghiamo anche a un turismo che è un turismo di qualità. La Toscana più che una destinazione è un'esperienza da vivere e lo sarà ancora di più nel 2018, anno del cibo italiano, perché l'enogastronomia con la foto del calice pubblicato sul proprio profilo social è ormai un marchio di garanzia. È un'esperienza di multisensoriale, quasi olistica, che riguarda un po' tutti gli aspetti, ma è anche un'esperienza che riguarda la relazione, la relazione tra le persone che sono a tavola e con chi le ospita in quel momento. Intanto per aprile e maggio le pronotazioni hanno già raggiunto il 46% di occupazione nelle città d'arte e il 36,4% nelle località di campagna.